fratelli bianconeri e non buongiorno a tutti voi mi trovo in quel di pesaro a lavorare e mi sono preso una ventina di minuti per uscirmi andare a mangiare un panino e quindi ne approfitto per fare questo video per parlare di una notizia che è uscita un paio di giorni fa ieri un paio di giorni fa che potrebbe rivelarsi una notizia molto curiosa e sicuramente una bomba di mercato sicuramente una bomba di mercato questo perché perché è uscita la notizia dove allegri a fine stagione potrebbe essere accolto a braccia aperte dal suo padre prodigo di solito si dice figliol prodigo qui parliamo di padre prodigo che è il signor ex direttore generale della juventus giuseppe nostro marotta in quel di inter poi ragazzi questa è una notizione se fosse vera ci sono alcune cose però di cui parlare prima però di parlare di quelle cose un uccellino ieri sera parlando al telefono non vi dico il nome ma non si tratta dell'uomo mercato gius è un altro uccellino un amico mio che non è l'uccellino di del piero neanche ieri sera mi ha mandato un messaggio dicendomi demon guarda se ne vuoi parlare nei tuoi video ho una notizia da darti dico di cosa si tratta di che si tratta di mercato è una notizia che tutti sanno ma non c'è l'ufficialità è ancora ufficiosa ma praticamente la puoi prendere per quasi fatta dico mi aspettavo che fosse riferita che so un giocatore marsello cioè pensavo invece no riguarda proprio allegri questo uccellino mi ha detto che sarebbe tutto fatto praticamente già tutto stabilito in pratica allegri se ne va ed è sulla panchina della juventus si incollerà zinedine zidane è già tutto fatto al 99 per cento mancano le ultime parole gli ultimi dettagli con zidane il quale a detta dell'uccellino si dovrebbe occupare proprio anche lui del mercato insieme a paratici e nedved sarà lui a richiedere i giocatori da quel che pare però non ha notizie di allegri cioè lui non sa nulla di dove può finire allegri però è uscita questa notizia che indipendentemente dal fatto di zidane eccetera che sicuramente è curiosa perché sarebbe veramente molto curioso vedere allegri sulla panchina dell'inter no penso che sia così anche per voi quello che mi chiedo e che val vado un po a snocciolare in questo video è ci sono un paio di considerazioni da fare importanti la prima sarebbe quella di sapere cosa pensano gli interisti a mi piacerebbe sapere cosa dicono gli interisti ma ti immagini te che alla fine dell'anno allegri va sulla panchina dell'inter ci sarebbe di che ridere ma veramente ci sarebbe di che ridere detto ciò facciamo due considerazioni la prima sono due considerazioni molto serie ed importanti la prima giriamo un attimo il faro su spalletti allora perché ragazzi e spalletti qui che farà prendere l'ago della bilancia ammesso e non concesso che questo possa diventare una realtà perché perché tutti noi sappiamo che sono uscite diverse squadre che sarebbero alla ricerca di un sostituto delle loro società un real che vorrebbe sostituire solari con allegri un'altra è la premier dove sembra che anche il manchester united il celsi si siano mosse per per allegri quindi voglio dire no ora il punto qual è allora la prima considerazione da fare è questa poniamo l'esempio che spalletti centri la zona champions che non è affatto scontata perché come dicevo nel video ieri post partita cagliari inter la sconfitta dell'inter questa col cagliari è gravissima è di una gravità enorme perché oggi giocano sia il milan che la roma se queste due squadre vincono ragazzi cioè una gli arriva pari punti all'altra li sorpassa quindi la situazione di mister spalletti non è per nulla chiara anzi possiamo dire che ha un po il sederino sui braceri quindi detto ciò poniamo perché a inizio stagione a parte qualche interista devo dire diversi anche nelle mie live sono intervenuti ma comunque quando le cose andavano bene noi abbiamo una bella squadra eccetera l'inter veramente veramente il suo obiettivo primario era prendere la zona champions era questa l'idea dell'inter cosa che ripeto potrebbe non verificarsi però detto questo poniamo l'esempio che spalletti arrivi champions visto quello che ha fatto e visto che non scade quest'anno il contratto di spalletti a che mi risulta la società potrebbe decidere di confermare spalletti almeno per un'altra stagione e vedere come vanno le cose a quel punto se realmente allegri se ne va dalla juventus saranno alte le sponde dove si appoggerà poniamo l'esempio il secondo che spalletti gli venga non venga esonerato gli venga dato a fiducia fino alla fine dell'anno e questa è la seconda considerazione però non riesca ad arrivare in champions e quindi di fallimento totale per l'inter siamo così sicuri che spalletti se ne va e un allenatore come allegri che comunque piazza o non piazza come diceva un certo lasciamo stare non voglio entrare anche perché poveretto non c'è più e siamo così sicuri che allegri accetterebbe la panchina dell'inter sapendo di essere fuori dalla champions perché perché non dimentichiamoci comunque che allegri fino adesso è stato comunque richiesto da società che avrebbero insomma dei progetti importanti da proporgli perché se ci fosse di mezzo il real madrid real madrid donna bisogno di presentazioni stessa cosa il manchester united diciamo forse un pochino più ballerino il celsi però comunque sono tre grandi società che gli potrebbero garantire no insomma certe cose siamo sicuri che allegri accetterebbe di andare all'inter senza champions non lo so sicuramente vi dico è una notizia molto curiosa molto curiosa perché io sarei veramente mi piacerebbe che un interista facesse un video sul possibile arrivo di allegri alla juvento all'inter se ci penso mi viene da ridere ma ti immagini a fine stagione spalletti via dall'inter arriva allegri sarebbe una cosa incredibile secondo me demon però in cor tuo dimmi caro quante possibilità credi che possano avere queste notizie ma io credo che le possibilità che allegri vada all'inter sinceramente siano molto poche molto poche io credo che se l'inter fallisce la coppa dei campioni la qualificazione alla champions io credo che le possibilità che allegri vada all'inter siano meno di zero per me se spalletti dovesse centrare la champions a parte il fatto che non so se la società comunque sarebbe disposta a dare un calcio a spalletti e mandarlo comunque via per una serie di prestazioni sicuramente poco edificanti e prendere comunque un allegri che proviene da una società dove comunque ha imparato molto perché allegri alla juventus ha imparato tante cose no non possiamo negarlo questo non lo so francamente non lo so sono però l'unica cosa che so per certo è che sarei molto molto curioso veramente veramente mi incuriosisce da matti questa possibilità vedere allegri all'inter sarebbe una cosa mi piacerebbe che qualche interista facesse qualche video su questo veramente per sapere il loro pensiero cioè se veramente sarebbero contenti di avere allegri sulla panchina perché anche qui sapete che gli allenatori ne sono stati vociferati più di uno all'inter si è vociferato di conte si è vociferato di pocettino si è vociferato di simeone addirittura quindi ora parte il fatto che io non credo che uno come simeone possa lasciare l'atletico madrid per andare all'inter sinceramente ci credo poco conte forse sarebbe già più possibile se non fosse la cifra alta che richiede a livello economico pocettino non credo che siano disposti a lasciarlo andare via su due piedi per cui non lo so sono sono veramente molto molto curioso di questa cosa molto curioso mi piacerebbe un sacco vedere allegri all'inter mi piacerebbe un sacco non posso negarlo sarei veramente molto curioso a partire dal mercato che farebbero ad arrivare proprio a dare la mano in squadra alla squadra in mano ad allegri per vedere come 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 la gestirebbe come la gestirebbe sarei molto curioso sicuramente una cosa c'è che marotta ha già visto le differenze cosa vuol dire lavorare nella juventus e lavorare nell'inter credo che le differenze si siano già ampiamente viste vediamo che succederà sono curioso perché comunque marotta nel suo mestiere è comunque bravo quindi niente da niente da dire allegri ripeto piaccia o non piaccia comunque è un vincente quindi non gli puoi dire nulla non lo so sarei curioso di vederlo là intanto io comunque ragazzi vi ho lasciato oggi vi lascio oggi perché me ne torno a lavorare con questa notizia che insomma questo uccellino è già fatto zidane è sulla panchina della juventus ha detta sua ripeto non mettetemi a me parole in bocca che non ho detto è lui mi ha detto io vi ascolto e vi ho riferito lui dice che ci sono notizie certe che allegri va via sicuro a fine stagione ed è già pronto zidane che sta già studiando i piani di mercato addirittura con la società qualcuno dice io non ci credo a questo però l'arrivo di zidane potrebbe essere possibile viene vociferato da tante da tanti media da tante cose da più parti si è sentito vociferare l'arrivo di zidane alla juventus potrebbe anche essere vero e quindi per oggi vi lascio con questo pensiero è curioso è curioso spero che qualche youtuber interista mi risponda per farmi sapere che cosa ne penserebbe dell'arrivo di allegri sponda inter sarei molto curioso ragazzi detto ciò vi saluto me ne torno a lavorare mi raccomando fate i bravi una cosa che non vi dico spesso ragazzi azionate la campanella per le notifiche perché molte volte i video non li vedete perché non azionate la campanella azionate la campanella delle notifiche ragazzi perché è importante tutte le volte che c'è un nuovo video avete la certezza di vederlo ok e come sempre io vi dico iscrivetevi al canale instagram perché anche quello è molto importante e iscrivetevi al canale se vi piace e in più l'ultima cosa lasciate un like sotto il video se vi è piaciuto aspetto gli interisti sarei curioso di sapere una loro opinione sarei curioso sarei curioso ciao a tutti torno a lavorare ci sentiamo stasera dopo aver visto il milan e dopo aver visto il derby di roma di stasera oggi è una bella giornata sarà molto interessante ci vediamo dopo ragazzi un saluto e forza juve grazie a tutti